Amo, come è finita? Ma spesa non te ne ha fatta la signora? Spesa non ne ha fatta perché è una birrucchiusa, era tardi, abbiamo fatto la fila dal benzinaio lunghissima Ah la benzina l'ha messa lei, l'ha pagata lei 100 euro di benzina E poi andiamo al supermercato, no? La bambina si sta addommentando, c'è freddo, ci si rivedremo romani E questo che è? Il regalo suo? Ah apriamolo, andiamo sopra Andiamo, 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 che è? Casi fè, che è? Dimmi Amo, ma chi era alla fine? Chi era? Un follower dice che devo fare teatro Ah, ma fai teatro? Ma pareva che mirava i biglietti un po' teatro, non ci faccio un teaggio Va bene, andiamo ad aprire il pacco, no? Va bene, no? Va bene, ragazza, tra poco è il tempo che saliamo Eccolo qua, il pacco fatidico, dopo 100 euro di benzina Che ho visto i papà da pureggia Ma risparmiamo sulla spesa? Sì, sulla spesa, però da pureggia aveva fatto il regalo Mi chiamola per i pacchi, mi sono risparmiato anche a lei Ma per chi ha la pacchia per i pacchi tu? Ci voglio un bacio Ah, un bacio, scelto Ma è lontano? Sì Ho scelto perché c'è il covid, in effetti Allora queste le ha fatte lei, ci ha detto, lei ha una pagina Facebook che si chiama Le Creazioni di Rita Vediamo Rita cosa crea, vediamo chi ha creato per noi Rita No, vabbè Tante cose Tanto una bella bottiglia di Santero La bottiglia di morti di fame Ma bellissima Personalizzata Quindi personalizza le bottiglie Santero Fantastico, morti di fame Ci mancava nella nostra collezione Anche i cuoricini e c'è una lettera Sì, la lettera è della bambina, da carola Bellunzi Armando Vi voglio bene, vi amolo Che bello Quelli siamo noi Grazie Hai visto? Sì Che bella carola Ma quanto sono anche i cuoricini Aspettate che stoppo ragazzi perché sennò è finito Ecco, sennò non ci arrivavamo Guardate cosa ci ha combinatorita La bottiglia personalizzata ai morti di fame Con i bicchieri personalizzati In unzio E Armando Tutti questi cuoricini Vabbè, questo non è inutile Ne ho potuto fare due Armando Vabbè, inutile che è mio E poi guardate Il cactus siciliano Cuoricini di gesso Credo che sia gesso Se non sbaglio E questa composizione è sempre siciliana Sì, questa è fatta tipo col panno Lench Col panno Lench Il conto ne capisci che lo sai Col panno Lench Grazie Rita Non sappiamo come ringraziarti Rita Grazie E scusaci per la benzina Ma il conto è qua Scusami Ma poi vi direi un'umanità spisa Saluta Rita Ci vediamo domani per la sua Salutiamo a Rita Ciao Rita Ciao Rita Ma soprattutto A Carola A Carola 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 È finito Ciao Ciao Carola Ciao Carota Ciao